Grazie a tutti. Cercherò di essere breve, anche se non è facile, perché io credo che il dibattito di questa sera sia davvero importante e non sia un dibattito scontato, un dibattito semplice, non solo perché siamo qua insieme in tanti a discutere di cose, anche partendo da situazioni, da storie molto diverse, che non basta dirselo per dire siamo tutti insieme. Io credo che però un filo comune tiene insieme due cose, cioè quello che ci ha raccontato Augustin, quello che ci ha raccontato gli altri, ed è il desiderio di sottrarsi allo sfruttamento. Questo è un punto, cioè la vita, la nostra vita, che ci porta comunque a sottrarci allo sfruttamento. Da qualche tempo, da diversi mesi, dove sto io in provincia di Treviso, dopo che hanno battuto la gran cassa sulla crisi per anni, adesso sta di nuovo ribattendo la gran cassa sul fatto che non troviamo lavoratori. E addirittura c'era un'intervista dove uno di un ipermercato, tutto scandalizzato, diceva ho fatto un colloquio con un ragazzo e gli ho detto che doveva lavorare tutti i sabati e pensa, questo mi ha risposto, ma io ho una vita, no? E se ne è andato via, no? E lui era scandalizzato che questo gli ha risposto, cazzo ho una vita fuori da qua, no? Perché la vita deve essere subordinata al lavoro. E se non riesci a sottrarsi, a sottrarti, come magari molti ragazzi riescono a fare, anche molti di noi, perché poi si parla di immigrazioni, ma oltre 100.000 ragazzi italiani vanno via dall'Italia, no? E con l'are che tira ho idea che aumenteranno quelli che vanno via dall'Italia. Però, voglio dire, finché uno può sottrarti, ti sottrai. E poi ovviamente la ricetta è sempre quella, no? Che bisogna affamare la bestia, per cui a un certo punto tu ti sottrai, ma a un certo punto se muori di fame, sottrarti non puoi più. E quindi devi metterti al servizio di questa situazione. Quindi io dico, il primo punto è questa questione del desiderio. Il secondo punto è quello che veniva detto, secondo me, lunedì scorso, su questo palco da Jason Moore, no? Cioè sull'idea che, l'idea più sbagliata del mondo è quella di considerare il lavoro solo il lavoro retribuito. In realtà il lavoro è, certo, il lavoro retribuito. Poi c'è tutto un lavoro, appunto, cosiddetto di cura, di riproduzione. Comunque quello che lui chiamava il lavoro gratuito, e ce n'è tantissimo. Cioè, penso che il palco dove siamo noi forse non ci sarebbe se non ci fosse lavoro gratuito. Noi lo chiamiamo militanza, no? Cooperazione. Però, cazzo, no? Forse ha molto più senso che andare a costruire la Tavol Mose, mettere in piedi il palco di Sherwood, no? Allora, uno dice, perché questo non deve produrre un reddito, porca puttana? No? Un reddito alto, ovviamente. E il terzo è la questione dello sfruttamento dell'ambiente, che chiaramente non può essere scambiato per un reddito, come succede in Alaska, dove pure danno 2000 dollari a persona per lasciare mano libera ai petrolieri di trivellare dappertutto. Quindi è chiaro che non bisogna scambiarlo per questo. Però è un fatto che il profitto del capitale si fonda anche, sempre di più, sulla depredazione dei beni comuni, dell'ambiente, e crea un profitto che poi qualcuno si intasca. E che quindi ha un senso che questo sia redistribuito, anche se non è immediatamente lavoro inteso come io offro una prestazione, no? Quindi, in questo contesto, secondo me, nel contesto del desiderio, nel contesto di considerare il lavoro come tutte queste cose, quello retribuito, quello della fabbrica, l'antagonismo, ma quello gratuito, quello di cura, quello che c'è in famiglia, quello che è stato descritto prima, e con il discorso dello sfruttamento dell'ambiente. Poi, però, detto tutto questo, quindi di superare quella divisione storica in cui c'è l'idea che, no, per nobilitarti devi lavorare, quando credo che il 95% dei lavori che ci sono in questo momento in Italia sono lavori di merda, diciamo la verità. E anche quelli che potrebbero non essere di merda, come fare l'insegnante, eccetera, eccetera, li hanno trasformati in lavori di merda perché sono talmente sviliti, deprezzati, eccetera, e in cui uno sfido io a trovare una motivazione. Per cui, di sicuro, l'idea che il lavoro ci libera, ci dà la nostra identità, credo che sia una storia assurda. Allo stesso tempo, però, nemmeno l'idea che fa comunque un po' fatica a passare, no? Quella che, vabbè, uno non faccia un cazzo e mi danno lo stipendio lo stesso, no? Cioè, voglio dire, che poi nella vulgata è quello che passa, no? E che rende anche difficoltoso poi costruire come lotte quello che diceva Gianni prima, perché è un fatto che comunque, l'antagonismo di cui parlava Augustin, comunque è molto, si dà di più dove è possibile organizzarsi, dove è possibile avere delle rigidità, perché c'è poco da fare, i precari, gli intermittenti, gli interinali, questa roba qua, tranne alcuni casi storici come a Napoli, disoccupati, però è un fatto. C'è un livello di ricattabilità talmente alto che è molto più difficile che si organizzino, perché non hanno nessuna cazzo di rigidità. Allora, io credo che però, quando parliamo di reddito, non dobbiamo parlarlo solo in funzione del lavoro, perché la questione del reddito va oltre, perché il nostro desiderio, che è lo stesso desiderio, per cui io quando vado nei posti di lavoro dico, cioè, dubito che se fossimo ricchi qualcuno va a lavorare perché non sa come cazzo occupare il tempo, no? Ecco, quindi uno va a lavorare perché? Perché gli servono soldi, gli serve un reddito, cioè il salario è questo, che a sua volta gli serve per l'abitazione, per la formazione e via dicendo. Noi dobbiamo trasformare, secondo me, trovare, soprattutto in questa stagione, perché è una vergogna, secondo me, il fatto di essere in balia, che si sia creato un clima per cui probabilmente molti sono là in attesa di un governo, di vedere, ma questi chissà ci daranno qualcosa, sì o qualcosa di no. Noi dobbiamo riappropriarci di questo, a partire da tutto quello che serve per la nostra vita, per soddisfare i nostri desideri e quindi chiamarli tutti sotto il nome di reddito, quindi la questione della casa, la questione della sanità, la questione della formazione, la questione che forse sarebbe ora di dire, che come qualcuno giustamente ha detto, ma oltre al fatto che l'alternanza scuola-lavoro è una schifezza, perché vuole subordinare la scuola ai progetti del capitale, dell'industria, eccetera, eccetera, e che comunque deve essere pagato, ma che forse ci sarebbe anche il bisogno di fare l'alternanza lavoro-scuola e che forse avere dei mesi pagati per andare a scuola invece che lavorare e rompersi il culo in qualche posto di merda, forse avrebbe una cosa, avrebbe molto più senso. E così tutti gli altri diritti, ma penso alle forme di cooperazione che ci sono nei centri sociali, che sono comunque forme di lavoro, lo chiamiamo cooperazione, dove giustamente uno mette anche in discussione il fatto di dire, ma perché la politica culturale, le politiche sociali devono essere sempre determinate da qualcuno? Quello non è comunque un lavoro che produce cultura, produce socialità, produce spesso anche nuovi servizi. Cioè, questo noi dobbiamo rivendicare, perché questo è quello che noi facciamo e cooperiamo, anche perché, appunto, dovremmo, prima o poi, anche porre la questione, come è stata posta lunedì, che evidentemente, visto il livello a cui siamo arrivati, dobbiamo anche mettere in discussione, anche appunto, cosa cazzo si produce, perché noi tutti, la moltitudine, deve comunque essere al servizio di un sistema che, per farci lavorare, per darci una miseria di salario, ci fa fare lavori di merda, super sfruttati, super ricattati, e che, oltretutto, ci fa produrre delle schifezze che mettono in crisi il sistema, non tutte, perché poi ci sono anche cose carine, però ci mette in crisi il sistema e via dicendo, oppure, appunto, spende miliardi per il Mose, per la Tave, via dicendo, e sempre quelli che poi ti sfruttano sul lavoro, come è successo alla manifestazione di Venezia l'altra volta, quelli che difendono le grandi navi, quelli che, in realtà, delle condizioni di lavoro non gliene può fregare di meno, però quando tu gli dici, ma guarda che quella è una merda che distrugge la città, ti dicono, eh, ma sono posti di lavoro, no? Cioè, con una faccia come il culo di quelle che veramente è lunghe qua a Venezia. Quindi, ripeto, cerchiamo, secondo me, adesso, da questo autunno, bisogna che queste questioni sul reddito, sui nostri diritti, sul tempo di vita, dobbiamo coniugarle in lotte concrete, cercando anche di, appunto, cooperare anche tra di noi, per non fare la figura di quelli che ci tocca aspettare, un governo razzista di merda, per vedere se forse darà qualche briciolina a qualcuno. Grazie. Grazie. Grazie.